Amici di Parabiago, sono qui alla Notte Rosa, come potete vedere dal mio look. La Notte Rosa è una serata organizzata dal comune di Parabiago. Ci sono tante belle manifestazioni all'interno di questa grande manifestazione. Abbiamo già visto diversi angoli pieni di persone di divertimento. Andiamo a scoprirle un po' insieme. La Notte Rosa è una serata organizzata dal comune di Parabiago. La Notte Rosa è una serata organizzata dal comune di Parabiago. La Notte Rosa è una serata organizzata dal comune di Parabiagoago. Grazie al signor Mauri Giovanni, ho trovato il mare. Loro non ci credono, me lo spiega lei? Sì, certo. Stando all'interno della stanza di sale, perché pareti, soffitto e pavimento sono completamente rivestiti di sale, dove appunto viene ricreato all'interno lo stesso microclima del mare. Facendo una seduta di 40 minuti si ottengono gli stessi benefici che si otterrebbero stando due o tre giorni al mare. Bene, allora se non siete ancora andati oppure siete andati al mare e avete voglia di ricreare questo momento, ma soprattutto perché fa bene al nostro benessere, diamo un numero di telefono, un sito internet qui a Parabiago? Volentieri, allora www.saltherapy.it oppure 0331-197-6005. Ok, grazie. Grazie a tutti.